Masse e volumi In questo esperimento verificherai i rapporti fra masse e volumi per diversi materiali. Per svolgere l'esperimento, devi procurarti i seguenti oggetti. Una bilancia a bracci uguali o una bilancia gruccia, che ti sei costruito in un precedente esperimento. Alcuni bicchieri di plastica trasparente e diversi materiali disponibili in casa come riso, farina di mais, sale grosso, sale fino, acqua e olio di oliva. Procedimento Riempi un bicchiere all'incirca per metà con dell'acqua e mettilo su uno dei piatti della bilancia o all'interno di uno dei contenitori della bilancia gruccia. Cerca di equilibrare la bilancia mettendo dall'altra parte un bicchiere uguale contenente una quantità adeguata di farina di mais. Che cosa osservare? Osserva il livello della farina nel bicchiere e quello dell'acqua. Sono uguali? Prime interpretazioni Le due quantità di acqua e farina usate hanno lo stesso peso. Il fatto che non raggiungano lo stesso livello nei bicchieri ti fa capire che non hanno lo stesso volume. Come te lo spieghi? Non finisci qui. Ripeti l'esperienza usando altri materiali al posto della farina di mais. Prova a mettere in ordine i bicchieri contenenti i diversi materiali in base all'altezza del livello necessario per equilibrare la bilancia, dal più basso al più alto. Come ti aspetti che si comporti la bilancia quando ai due lati della stessa metti due uguali volumi di diversi materiali? Medjugation Per una leggi sulla leggia la farina in valazione真的? Lasci più maldia